L'introduzione ai reclutamenti è abbastanza lunga, ma senza questa introduzione doverosa non potrete assolutamente reclutare giocatori che avete letto nel titolo e che vedete nella miniatura. Quindi tenete duro e cominciamo. Wahey! Ben ritornati da AndroLink 91 in questo nuovo episodio reclutamenti per il Zoom Eleven Go Galaxy! Era da un po' che non mi facevo vedere durante i reclutamenti, ma quest'oggi il video è molto particolare. In privato su Instagram mi avete chiesto in tanti come reclutare Wonderbot e anche nelle live su YouTube. Quindi alla fine mi sono messo l'impegno e ho deciso di provare a reclutare Wonderbot. Non è tanto quello che bisogna cercare o quello che bisogna fare, ma è il procedimento per arrivare a prendere Wonderbot, per farlo comparire nella lista dei contatti. Ora, la prima cosa che ci serve è un salvataggio di una Zoom Eleven Go Chronostones 2. Non importa in che lingua sia, ma ci serve un salvataggio di una Zoom Eleven. Che sia a tuono o che sia a fiamma, dovete avere la controparte del gioco giapponese. Ok? Ora, dove si trova il gioco giapponese? Eh eh! O lo comprate, cosa che credo non farà nessuno? Oppure ve lo scaricate da qualche sito di ROM. E qual'è il sito di ROM? Usate Google. Oppure andate in descrizione. Però per facilitarvi il compito vi metterò il mio salvataggio di una Zoom Eleven Go Chronostones 2. Quindi scaricate, mi dà la descrizione del gioco, e il mio file di salvataggio e potremmo procedere poi. Per questo procedimento ci servirà l'emulatore Sitra. Questo perché il gioco giapponese sulla console 3DS non funziona, a meno che non ne abbiate una giapponese per l'appunto. Questa cosa purtroppo è davvero strana nonostante si abbia un custom firmware o non è partito a me per qualche astruso motivo. Sia chiaro, io il procedimento lo eseguo da Sitra, però si può fare anche col 3DS classico eh. Quindi, cosa si fa una volta che si ha? Galaxy giapponese con un salvataggio bello finito, il gioco giapponese di Chronostones e il salvataggio di Chronostones. Non basterà altro che cercare il gioco tramite Sitra, tasto destro sull'icona del gioco, cerca salvataggio e vi aprirà la cartella del salvataggio. Ovviamente l'importante è che giochiate per almeno due minuti prima di mettere il salvataggio nel gioco. Quindi accendete il gioco, fatelo partire, arrivate al primo momento in cui potete salvare, salvate il gioco. Spegnetelo, andate sulla cartella di Sitra, tasto destro sull'icona del gioco, cerca salvataggio, vi aprirà la cartella del salvataggio, a quel punto mettete il salvataggio che avete scaricato dentro la cartella che si è appena aperta. Vi chiederà di sostituirlo, cliccate di sì. A questo punto aprite il gioco, non andate assolutamente nella partita, ma scendete su Extra. A questo punto cliccate su SD Link, vi chiederà vuoi creare dei dati di salvataggio per Inazuma Eleven Go Chrono Stones 2 e voi cliccate di sì. A questo punto li avrà creati, vi chiederà se volete cercare Link Speciale Go, cliccate di sì o di no, questo è a vostro piacimento, e chiudete il gioco. A questo punto aprite Inazuma Eleven Go Galaxy, andate sugli Extra e cliccate Link Speciale Go. In questa maniera il gioco vi creerà dei dati prima e poi vi cercherà il salvataggio di Inazuma Eleven Go Chrono Stone 2. A questo punto voi accettate di fare Link Speciale Go e una volta aperto il gioco, prima vi darà il segnale con Lina Link. Per avere la conferma definitiva andiamo allo stadio di Odaiba, parliamo con la signorina che ha la community appunto vicino agli spogliatoi e se avremo Flora e Wonder Bot è sicuro che il Link è andato a buon fine. Per prendere invece Sean Miximax e Jude Miximax, beh il discorso è lo stesso che abbiamo fatto per Inazuma Eleven Go Chrono Stone e Inazuma Eleven Go Galaxy con il Link Speciale. L'unica differenza però è che ci vuole il salvataggio del gioco Endo Mamoru Densetsu. Io ho usato il gioco originale perché sono un fag di Inazuma Eleven e quindi ho dovuto comprare il gioco originale. Però l'importante di questo gioco è basta che iniziate una qualsiasi partita di Inazuma Eleven. Personalmente ho iniziato il primo capitolo, l'ho giocato un bel po' ma non importa quanto giocate, l'importante è che fate partire il gioco, salvate appena possibile, andate negli extra, fate il Link Speciale Go, come abbiamo visto per gli altri due giochi, vi dirà vuoi creare dei dati di salvataggio per il Link Speciale Go? Cliccate di sì. Andate poi su Inazuma Eleven Go Galaxy e fai connetti i dati speciali, sempre nella stessa maniera che abbiamo già visto. E quindi appariranno anche Jude Miximax con Caleb e Sean Miximax con Axel, oltre a qualche altro personaggio. E come si prendono questi qui? Vediamo allora come prendere Wonderbot, Flora, Jude Miximax con Caleb e Sean Miximax con Axel. Cominciamo. Per prendere Wonderbot abbiamo bisogno dei seguenti requisiti. Un oggetto che è dispositivo mediocre, che si prende però dei Wheelings, che è una squadra che si trova nel percorso dell'Uomo Ombra. Questa squadra si trova nel percorso di sinistra. Per aprire il percorso di sinistra ci serve un biglietto che si trova in una cesta d'argento vicino al porto di Falamorbias. Per prendere appunto la chiave che apre queste ceste d'argento dobbiamo andare nell'ultimo vagone del Galaxy Express. In un forziere blu troveremo la chiave d'argento che apre appunto i forzieri d'argento. poi tre foto. Foto della vecchia insegna del club di calcio che si prende appunto davanti al vecchio club di calcio della Raymond. La foto di Taro Kun che si prende davanti al negozio di ramen al distretto dello shopping e l'elefante giallo che si prende nel quarto vagone letto del Galaxy Express. Per Jude Miximax con Caleb abbiamo invece bisogno di tre oggetti e un record. Il primo è miniatura del bus che si prende dal Legend 2 N6 nel percorso del Professor Wintersea nel club di calcio della Raymond del passato. Per aprire il percorso nel quale si trova questa squadra bisogna prima abbattere tutte quante le squadre della fila di sotto non importa quale rango. Abbiamo poi bisogno dell'oggetto pupazzo del Pinguino Imperatore che si prende dai Masaraus che si trova alla Torre d'Acciaio ai Nazuma City del presente. Trofeo prestigioso che si prende dal Team Endo nel percorso di Wintersea. Il Team Endo è la prima squadra del percorso di sinistra e si può aprire il percorso di sinistra vincendo prima tutte le sfide della fila di destra. Il record invece che dobbiamo ottenere è vincere 100 battaglie di calcio. Le battaglie di calcio non sono gli incontri 11 contro 11 ma gli incontri 5 contro 5 che si possono effettuare combattendo contro le squadre di personaggi singoli che troviamo segnati in rosso sulla minimappa. Passiamo invece al Miximax tra Sean e Axel. Per questo personaggio avremmo bisogno sempre della miniatura del bus che appunto si prende dalla squadra Legend 2-9-6, della Sharpa Calda che si prende dalle Good Girls nel parcheggio della Raimon. La foto della statua delle Dei del Calcio che si prende alla stazione di Nazuma City appena usciamo o appena entriamo dipende dai punti di vista. E il record Miracle Striker ovvero Cannoniere Miracoloso. Si prende segnando più di 200 reti in totale. Non importa se le avete fatte con partite e battaglie di calcio l'importante è averle fatte. Passiamo quindi a Flora Forma Miximax. Per Flora Forma Miximax avremo bisogno di rivista Korokoro che si prende dai Noisy Nose nel percorso di Kanda Satoko alla Torre d'Acciaio. Questa squadra si trova sul percorso di sinistra. Per aprire il percorso di sinistra bisogna trovare un forziere vicino alla rota panoramica di Odaiba. Quel forziere conterrà il ticket pass per i match alla Torre d'Acciaio. Romanzo di Angeli e Demoni che si prende dai Real Legends nel percorso dell'Uomo Ombra. Questa squadra si trova nel percorso di sinistra dell'Uomo Ombra. Per aprire il percorso di sinistra ci serve un biglietto che si trova in una cesta d'argento vicino al porto di Falamorbias. Per prendere appunto la chiave che apre queste ceste d'argento dobbiamo andare nell'ultimo vagoni del Galaxy Express. In un forziere blu troveremo la chiave d'argento che apre appunto i forzieri d'argento. Ci servirà poi l'argomento accessorico che si prende da questa persona alla piazza di Odaiba. Per finire l'argomento dolci squisiti che si prende a piano terra dell'edificio principale della Raimon. Se invece volete prendere flora in forma normale innanzitutto si prende da questa community. Però dovete reclutare altri 5 giocatori dei distruttori per farla apparire come personaggio selezionabile. Inoltre serviranno tutti gli stessi requisiti che abbiamo già visto per la forma Miximax. Con l'unica differenza che lei ha bisogno dell'oggetto Bouquet della Felicità. Bouquet della Felicità si prende dai Chronicles che è la quinta squadra della fila di destra del percorso di Maddie Moonlight. Maddie Moonlight si trova alla ruota panoramica di Odaiba e per aprire la fila di destra bisogna prima abbattere tutte le squadre della fila di sinistra e per aprire la fila di sinistra bisogna prima abbattere tutte le squadre della fila superiore. Ok con questo reclutamento abbiamo finito. Wow non è tanto per i reclutamenti quanto per aver spiegato la parte del link con i salvataggi. È un po' macchinosa ma se ascoltate bene se non siete molto avvezzi a queste cose riuscite anche voi a venirne a capo. Io personalmente ho imparato tutto quanto da solo quindi direi che le guide su internet se non ti spiegano bene quello che devi fare sono alquanto inutili e non è che io per spiegare sia proprio la persona più adatta però ci provo. Ad ogni modo io spero che riusciate a prendere questi giocatori se eravate interessati in particolare a questi giocatori. Come sempre vi ringrazio inoltre per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!